Ciao va! Niente, voglio ringraziarti per i sordi che mi hai mannato. Ogni volta mi dico, se non esistessero i sordi, ma come farebbe mi pare da aiutarmi? Poi mi domando se so i sensi di corpo o l'affetto che ti spingano a farlo. Poi mi rispondo che in fondo... Non voglio sapere. Io non te so mai piaciuta, lo so. No, quando stai con me sei sempre troppo serio. Forse perché so la prova vivente della storia tutta sbagliata. O forse perché ogni volta che mi guardi ti viene in mente la stronzata che hai fatta a sposarti con mia madre. Ma io non ci ho colpa di questo. Di questo, so certa. Del resto, non lo so. Se dovessi scrivere un libro su la storia della vita mia, penso che il capitolo su di te si intitolerebbe Diario di un odio. E invece devo imparare a non odiate quando mi arrivano i sordi o quei chiamate del cazzo in cui mi chiedi Come va? Va bene. Va bene, non ti preoccupare. Basta così. Ciao pa!